e rieccoci di nuovo in spiaggia come potete vedere il mare anzi la spiaggia un po cambiata c'è un po di schifezze varie io riuscirò il mio vecchio metadetector quello cinese e ho fatto una modifica al sand scoop praticamente cambiato questo pezzo qui l'ho trovato all'ikea vediamo come funziona buona visione a tutti oh che bella barchetta un po rotta e vediamo con cosa iniziamo è brutto ma sono curioso lo scavo lo stesso un altro tappino c'è rimasti solo quelli ma sarà un altro tappino un altro tappino vediamo 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 sempre ha gelo 3 vediamo 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 Un pezzettino di metallo sembra la parte di una zippa. Brutto! Bruttissimo! Tappino! Ma qui c'è stato un naufragio per caccia l'oca! Stavo a scavarla, mi sa che è una lattina. E invece è un centesimino, l'unico che ho trovato finora. Che sarà? Il buono non è tanto bello. E' brutta anche questa. Cosa di grosso. No, sa che non ne vale la pena. Sta profonda così. E' merda sicuro. L'aiuto del pin pointer, un picchetto. Arrugginito. Il sole sta per tramontare. Sono solamente le quattro e mezzo. Mi fa buio presto. Com'è brutto l'inverno ragazzi. Comunque oggi è una bellissima giornata. È stata una bella giornata. Un bel vento freddo asciutto finalmente. Infatti c'è un bel panorama. Le montagne si vedono bene. Ma è una tristezza. Un bel vento freddo. E' brutto anche questo. Ma scavo. Per curiosità mi fai tanto oggi. E' stata una giornata diciamo qui. Per riprendere un po' il via. Per riuscire col detector. Soprattutto a mettermi un pochettino. vediamo cosa c'è oddio che non trovo non vedo niente vediamo il spin point ah sta in mano questa gente andiamo più vicino alla duna e sotterra una marea di schifezze e io le trovo quello è così un altro tip eh si sta proprio tramontando eh si il sole è tramontato